Sindaco, negli ultimi giorni ci sono stati un paio di episodi sgradevoli a Napoli, le occupazioni di case, un po' come a Roma, anche a Napoli c'è questo fenomeno di infiltrarsi all'interno di case lasciate sole. Come si può fare per combattere questo inizio di un fenomeno che potrebbe essere dilagante? Questo è un tema che va affrontato con grande fermezza perché l'idea che poi ci siano queste occupazioni abusive su immobili, alcuni sono immobili comunali, altri sono immobili statali, è una cosa inaccettabile. Adesso ne parlerò anche col prefetto perché credo che vada fatta una task force ad hoc che proprio affronti questo tema per fare in modo che queste occupazioni abusive vengano debellate, soprattutto se dietro a queste occupazioni abusive ci sono delle azioni che sono supportate dalla criminalità organizzata e questo è un atto molto grave di illegalità che è inaccettabile nella nostra città.